Come effettuare un ordine Finito di creare il tuo libro fotografico ideale? In Project View, toccate l'icona del carrello in alto a destra per effettuare il checkout. Verrà visualizzato anche il prezzo totale in base al formato e al numero di pagine del libro. Motif eseguirà un controllo di qualità automatizzato. Si prega di vedere il nostro video del controllo di qualità per saperne di più su questo processo. Dopo il login o la registrazione, si arriva alla pagina Opzioni dell'ordine. Qui potete cambiare il nome del vostro ordine. Nota bene. Cambiando il nome alla cassa, non cambierà il titolo sulla copertina del tuo libro. Per cambiare, si prega di tornare alla vista del progetto e di modificare direttamente il testo sulla copertina. Successivamente, inserire la quantità di libri che si desidera ordinare. Qui trovate anche il vostro riepilogo dell'ordine dettagliato. Tocca Avanti in alto a destra e dici dove desideri spedire il tuo libro fotografico. Toccare di nuovo Avanti e scegliere il metodo di spedizione del progetto. Toccare Avanti e mettere l'indirizzo di fatturazione qui. Inserisci il tuo metodo di pagamento. Esaminare i dettagli del progetto prima di piazzare l'ordine. Una volta piazzato, una pagina di conferma vi fornisce informazioni di tracciamento insieme ai dettagli del vostro progetto. Ora sedetevi, rilassatevi e lasciate che Motif consegni il vostro progetto fotografico a casa vostra. M M Grazie a tutti.